In Kenya, il 65% delle donne è vittima della period poverty, non ha quindi la possibilità economica di acquistare prodotti sanitari adeguati per il proprio ciclo mestruale. Le bambine che vivono negli Stamps di Nairobi sono ancora più esposte a questo terribile fenomeno. Period poverty significa che quando una bambina ha il ciclo mestruale, non può andare a scuola e resta confinata in casa. Non è medicinale per alleviare il proprio dolore, non ha l'educazione necessaria per gestire il proprio corpo, e tutto questo provoca grande, grande vergogna. Noi vogliamo cambiare questa situazione, dotare tutte le bambine degli slums degli assorbenti necessari, portare l'educazione sessuale nelle scuole e combattere la discriminazione di genere. La period poverty calpessa i diritti di milioni di donne e bambine, e noi vogliamo sradicarle. Tu puoi darci una mano, e facciamolo insieme.